Penso che un Olimpico pieno sia un'emozione incredibile, proprio per me che ho vissuto tante giornate lì comunque per il calcio, sarebbe un'emozione veramente incredibile. È uno stadio che regala un'atmosfera veramente molto particolare. Ti piacerebbe insomma essere in campo contro l'Inghilterra? Sarebbe un sogno veramente, penso, una delle più grandi emozioni con la maglia azzurra che potrei mai immaginare. Già 40.000 biglietti venduti, cosa vuoi dire ai tifosi dell'Ital Rugby? Penso, innanzitutto ti ringrazio e sono sicuro che riusciremo a fare meglio in questi due mesi che mancano e spero di raggiungere il traguardo di 60.000.